Sono Roberto Testa, responsabile di stabilimento della rivoira Giovanni Figli S.P.A. di Verzuolo Cuneo. La nostra azienda si occupa della produzione e commercializzazione di ortofrutta, in particolare siamo il leader per quanto riguarda produzione, conservazione e commercializzazione delle mele. I drive downforce con la funzionalità Condition Based Monitoring, scelti da Gaudino Refrigerazione, ci permettono di conservare i frutti perfettamente, garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini. Infatti la peggior situazione che si potrebbe verificare nei magazzini di stoccaggio è il blocco inaspettato del sistema di refrigerazione. Questo è un evento che va assolutamente scongiurato. La scelta di equipaggiare gli inverte con le funzionalità Condition Based Monitoring e il servizio di assistenza Drive Pro, Remote Monitoring, risponde a una precisa necessità di rivoira. Garantire l'affidabilità assoluta dell'impianto di refrigerazione, riducendo al contempo i costi di manutenzione e i rischi di intervento non pianificati. Per tale ragione noi di rivoira, insieme al nostro partner storico Gaudino Refrigerazione, abbiamo sempre posto grandissima attenzione nello svolgere tutte le attività di manutenzione e il rinnovamento che potesse garantirci il massimo grado di affidabilità e resilienza degli impianti, appunto a tutela del nostro prodotto. Sono Paola Steggiano, responsabile di ricerca e sviluppo di Gaudino Refrigerazione. Gaudino opera nel settore della refrigerazione industriale da 80 anni e da sempre pioniera delle soluzioni ad ammoniaca, un fluido naturale e privo di effetti climaalteranti. Oggi Gaudino sta sviluppando una nuova piattaforma di acquisizione dei dati di funzionamento degli impianti per offrire servizi di manutenzione preventiva e predittiva. Il nuovo impianto frigorifero, a servizio di 7 celle realizzato per rivoira, si compone di due unità di compressione, entrambe dotate di inverter ad alta efficienza Dampos della famiglia WLT IVAC Drive, equipaggiati con funzionalità Condition Based Monitoring e servizio Drive Pro Remote Monitoring. Il progetto di Condition Based Monitoring sviluppato da Gaudino in collaborazione con Dampos Drive Italia prevede l'utilizzo dell'analisi vibrazionale dei componenti rotanti per mettere a disposizione degli operatori degli impianti frigoriferi di rivoira nuove funzioni di monitoraggio e diagnostica evoluta. La soluzione adottata è basata sulla capacità di acquisizione ed elaborazione dei dati presenti negli inverter Dampos ULT IVAC Drive, che sono in grado di correlare in tempo reale i loro parametri di funzionamento, come velocità, corrente e coppia, con i dati delle altre variabili esterne provenienti dal campo, per esempio dagli accelerometri. I dati raccolti ed elaborati dagli inverter Dampos ULT vengono trasferiti ed archiviati nella piattaforma di gestione Gaudino Hub, basata sul sistema cloud, insieme a tutti gli altri dati caratteristici dei componenti dell'impianto e delle attività manutentive ad essi correlate. La centralizzazione dei dati nel cloud e il servizio Drive Pro Remote Monitoring permetteranno di mettere a punto strategie di manutenzione, basate su condizioni sempre più personalizzate ed efficienti per ogni singolo impianto. Grazie all'analisi vibrazionale, la struttura Customer Care di Gaudino ha ora la possibilità di monitorare continuativamente i componenti cruciali dell'impianto frigorifero di rivoira e di pianificare attività manutentive mirate, limitando i disagi e riducendo la probabilità di guasti imprevisti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.